Sotto la lente dell'asle dei carabinieri sono finiti i due plessi dell'Aristi dei Gabelli, scuola dell'infanzia e del Renata Fonte, infanzia e primaria di Nardò. Nessuna segnalazione in merito a problemi di disenteria è arrivata dal terzo polo. Il principale indiziato resta comunque la carne, anche perché sembra che in quella mattinata siano stati serviti tipi di carne differenti. Rosbif negli istituti dove si sono verificati episodi di disenteria e malori e scaloppine nel terzo polo. La vicenda che sta preoccupando e non poco i genitori insegnanti delle scuole di Nardò e Gallipoli nel Salento va avanti e continua a destare allarme. La ditta, la Fenice dal canto suo, ha assicurato il rispetto di tutti i protocolli igienico-sanitari previsti nella preparazione e nella somministrazione del cibo, escludendo ogni innesso tra i sintomi avvertiti dai bambini e il cibo distribuito martedì scorso a Mensa. Convocati i vertici della ditta dal sindaco di Nardò, Pippi Mellone, hanno escluso qualsiasi coinvolgimento della ditta nell'epidemia gastrointestinale che ha coinvolto circa 200 bambini delle scuole primarie e dell'infanzia della cittadina e per garantire ulteriori standard di sicurezza il ricorso dalla prossima settimana alla figura di un biologo che presiderà le operazioni di somministrazione dei pasti. Dopo il caso di Nardò sono rimaste intossicate decine di alunni anche a Gallipoli servita dalla stessa Mensa che hanno accusato malori con dissenteria e vomito. A Gallipoli il dirigente dell'Istituto Comprensivo Secondo Polo ha chiesto al sindaco Stefano Minerva che vengano subito eseguiti controlli. L'assessore comunale alla scuola Silvia Coronese si è recata in Mensa per mangiare con i bambini confermando la qualità dei pasti. L'assessore ha annunciato che in una prossima delibera di giunta verrà istituzionalizzata la commissione Mensa che sarà formata da tutte le parti interessate, docenti, genitori, amministrazione comunale, uffici e dirigenti e si riunirà mensilmente per garantire un maggiore e continuo controllo.